Invece rimaniamo in tema di dolcezze perché questo è il simbolo proprio dei dolci siciliani è una specialità della pasticceria appunto che è apprezzata in tutta Italia dalle Alpi fino alle nostre isole ma anche all'estero e stiamo parlando appunto del cannolo siciliano Allora noi andiamo dal nostro Massimo Tosi che si trova proprio in Sicilia Buongiorno Massimo Esatto esatto buongiorno Daniela e i tuoi ospiti a tutti i telespettatori guardate qua Eccolo il cannolo siciliano fatto finito meraviglioso con un gran profumo E siamo insieme a Giuseppe ed Angela Chiofalo buongiorno Buongiorno A noi subito qua in diretta vogliamo preparare la ricetta vera e propria Allora facciamo spazio intanto qual è il primo passo per la pasta? Allora il primo passo è l'impasto ovviamente giustamente si mette la farina Che c'è dentro? Farina? Farina, cacao, un pizzico di vaniglia va impastata col vino e un po' di zucchero A vino? Vino bianco? Vino bianco Vino bianco Quindi si ottiene questo eccolo qua Questa foglia Perfetto Dove la foglia si arrotola Si arrotola Tipo in questa maniera Nel cilindro Nel cilindro E si passa nella filtrice Quanto tempo per ottenere questo? 180 gradi 10 minuti 10 minuti Si fa raffreddare assolutamente E a questo punto possiamo procedere alla farcia Che è meravigliosa Ricotta con Il segreto Ricotta con Ricotta con Ricotta condita con un po' di zucchero Un'ascorsetta di limone E cioccolata Buonissima Ricotta di pecora Daniela ci chiedeva il segreto Perché c'è un segreto importante Quando li acquistiamo Allora già fatti se li consumiamo velocemente Però se dobbiamo fare un lungo viaggio è meglio? Conviene Si consiglia giustamente di prendere le bucce vuote E la ricotta a parte In modo che quando si arriva Si riempono E Dimane croccante Perché altrimenti la buccia Eccola qua di arancio Che succede? A contatto con la ricotta per lungo tempo Perde la croccantezza Quindi Perché lo sappiamo tutti Se le acquistiamo in Sicilia sono ottimi Li portiamo a Milano Cambia il sapore E non riusciamo a capire il motivo Sempre Sicilia Nel senso per i dolci E poi ecco Possiamo aggiungere sopra Non li sentiamo più Proprio sul più bello Praticamente Si è interrotto il nostro collegamento Però non ci hanno detto In che parte della Sicilia sono Non ho capito perché Cos'è un mistero? Abito